Assolta dall'accusa di aver omesso versamento di 300.000 euro di IVA perché solo presta nome e non effettivo gestore. Jessica Mancini, figlia dell'ex presidente dell'Arezzo Calcio, Piero Mancini, era finita nei guai per una vicenda legata all'azienda retina Cometi di proprietà del padre e della quale all'epoca era presidente del CDA, in particolare ad una max evasione di IVA con mancato versamento che le era costato una condanna in primo grado. E adesso il processo in appello a Firenze è la relativa assoluzione. I precedenti della Cassazione in tema di test di legno, uomo di paio, presta nome che dirsi voglia, spiega l'avvocato Luca Fanfani che assiste la giovane, sono tutti di segno contrario. Si tratta di una sentenza isolata della Corte di Appello di Firenze, probabilmente destinata a fare giurisprudenza a livello nazionale. Giovedì prossimo intanto in Tribunale di Arezzo si aprirà il processo per la bancarotta del padre Piero Mancini che vede coinvolta anche la figlia Jessica. La decisione della Corte d'Appello conclude Fanfani che sancisce un ruolo meramente formale e destinata a pesare anche su questo secondo procedimento.